Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 e tra il Bibio con la 11 e Firenze in Pruneta verso Roma. Ci sono 10 km di coda con tendenza all'aumento a causa di lavori Anas sul raccordo autostradale Firenze-Siena che comportano la chiusura del tratto in Pruneta, greve inchianti. Segneremo inoltre che è chiusa l'uscita di Firenze in Pruneta provenendo da Bologna. In alternativa, per chi è diretto a Siena si consiglia di uscire a Firenze-Scandici e prendere poi la Firenze-Pisa-Livorno fino a Empoli, dove ci si può immettere sulla Firenze-Siena. Per il traffico locale si può utilizzare l'uscita di Firenze-Sud. In FIPILI troviamo rallentamenti per traffico all'altezza di Firenze-Scandici verso Firenze. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!